Ciao a tutti da Arpapi e dalla sede dell'Italia a Quattro Zampe Ollus, la voce di tanti pelosetti del mondo. Vi racconto una storia breve breve breve. Qualche giorno fa dei volontari di Priverno hanno trovato un cagnolino, circa sette mesi, taglia media, un meticcio e l'hanno chiamato Zack. Questo Zack avrebbe anche trovato una casa, quindi immaginate che bel lavoro hanno fatto questi ragazzi. Ringraziamo anche Giovanna, portavoce di tutti i volontari che hanno operato in questa missione. Avrebbero trovato anche una famiglia adottante, ma la famiglia vuole la messa in regola del pelosetto prima di farlo entrare a far parte della famiglia stessa, quindi CIP, vaccino e sterilizzazione. Questo è stato richiesto dalla famiglia, dice poi noi possiamo prenderlo in adozione. Basta che voi ci date queste cose. Questi ragazzi hanno iniziato una raccolta fondi, hanno totalizzato un qualche cosa, ma avrebbero ancora bisogno di 120 euro, questa è la richiesta che ci ha fatto proprio Giovanna, per continuare a rendere questa missione una missione compiuta. Se volete dategli una mano, ve lo faccio vedere. Lui si chiama Zack, si trova a Priverno ed è un meticcio, sette mesi, taglia media, che potrebbe entrare a far parte di una famiglia con l'aiuto un po' di tutti. Dateci una mano, lui si chiama Zack e ve lo faccio vedere. Zack 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 Così Così E' Fat on con